Uno dei casi che ha fatto più discutere è quello relativo alla signora Madaffari, aveva i requisiti, era una persona di grande valore per il sindaco? Ma intanto è possibile che i requisiti c'erano, la laurea c'era, non aveva avuto incariche dirigenziali in passato, il problema è che non è stata scelta per questo, perché è stata assunta questa dottoressa? Non per straordinaria capacità, perché probabilmente non c'è stata gara, perché come dice il dottor Robledo, che era il pubblico ministero che ha indagato dal punto di vista penale su questa vicenda e che pure aveva chiesto, non ottenendo il consenso del giudice per le indagini preliminari, la assoluzione, il proscioglimento per il sindaco, diceva questo, in relazione all'assunzione della Madaffari appare evidente che la ragione di tale assunzione risiede in una motivazione di carattere essenzialmente politico, probabile oggetto di accordi compensativi conclusi in sedi diverse. Ora, a me pare che al di là possono anche andare assolti dal punto di vista giuridico, ma il dire che in un luogo dove è importante avere imparzialità, in un luogo nel quale si deve far crescere il meglio delle esperienze che ci sono nella nostra città, nella nostra regione, nel nostro paese, le persone vengano scelte semplicemente per accordi politici progressi. Con questa dottoressa che era stata candidata alle elezioni politiche e non era stata eletta e immediatamente dopo è stata assunta dal Comune di Milano, non mi pare che sia un esempio di amministrazione sciolta da condizionamenti della politica. E poi ce ne sono altre case. Alcuni di quelli che sono stati assunti nel loro curriculum in posto di rilievo mettevano sono stata responsabile del comitato Moratti sindaco. Cioè nel curriculum veniva presentata come credenziale quella di aver svolto una funzione di tipo politico, non di tipo amministrativo. Un'altra replica della Moratti è questa, che la sentenza della Corte dei Conti riguarderebbe soltanto un pugno di casi sui oltre 70 coinvolti. Come rispondete voi? Come risponde la Corte dei Conti? La Corte dei Conti dice che io sono una magistratura contabile. Ho spiegato all'inizio della mia sentenza che tutte queste assunzioni sono avvenute non nel rispetto delle regole. Però io come magistratura contabile posso intervenire solo dove si è manifestato un danno erariale. Cioè dove la spesa pubblica è stata superiore a quella che si sarebbe determinata assumendo dalle altre persone. E quindi ha concentrato la propria attenzione su quelle che per entità dello stipendio e per non titoli sufficienti per poter occupare quell'incarico hanno finito per determinare un danno. Questo deve essere chiaro. E quindi ha concentrato su questi 5, 6 o 7 casi che sono quelli che sono stati presi in questione. Cioè quei casi nei quali se non fossero state assunte ancorché in modo non corretto si sarebbe dovuto spendere di meno rispetto a quello che si è speso. Mentre la vostra denuncia politica era anche sul diritto o meno di fare questo tipo di assunzione. La Corte dei Conti su questo mi pare che è chiarissima. Dice però noi come magistratura contabile possiamo intervenire solo dal punto di vista delle spese. Resta l'altro discorso. Io ne faccio spesso anche una questione. Ai miei studenti che cosa devo dire? Studiate, fate i concorsi, sperate in questo modo, miglioratevi. È la selezione del merito che conta o conta di più che vi scrivete come portaborse o come aiutante di questo o quel politico di turno per avere un incarico pubblico? A questo deve rispondere il sindaco. La Corte dei Conti gli ha detto guarda che tu non li potevi assumere queste persone così. Hai sbagliato ad assumerle. Io non ti posso condannare se non per la cifra in più che hai fatto spendere. Però sappi che queste assunzioni così non si potevano fare. Il sindaco a questo non ha dedicato neanche una parola alla sua risposta anche su Youtube, non diciamo in Consiglio Comunale. La sentenza peraltro è chiarissima, si può solo leggerla per brevità anche. Al contrario dice se il principio di fiduciarietà potesse legittimare una scelta arbitraria del dirigente da parte dell'organo politico, si porrebbero le premesse per un controllo di fatto dell'organo politico sull'operato del dirigente, sino alla possibilità di determinarne le scelte. Si creerebbero così le premesse per esporre l'esercizio delle funzioni dirigenziali ad un pesante condizionamento dell'organo politico di vertice, chiamato la nomina dei dirigenti generali, quale a loro volta procedono alla nomina della dirigenza subordinata, con grave pregiudizio, ancora una volta, dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento. Mi pare che siano parole che non abbiano bisogno di nessun commento. Però alcuni dei dirigenti sostituiti hanno accettato di andarsene liberamente? Liberamente? Ebbè è una bella espressione, libera è una bella parola. Accade che qualcuno ti viene a dire che se tu non ti dimetti non verrà riconfermato in quell'incarico dirigenziale. Magari quell'incarico dirigenziale ti comporta 200, 300 o 400 euro in più al mese e il fatto di andare in pensione con questo incarico dirigenziale oppure ritornare a essere retrocesso alla posizione precedente ti fa pesare questo stipendio in meno per tutti gli anni della liquidazione e della pensione. Tu che ti senti libero di poter decidere se fare questo? È chiaro che non si tratta di una libertà, si tratta di una vera e propria minaccia. Il sindaco ha un bel dire, avete firmato, si fa presto a parlare quando non si hanno problemi economici. Quando tu tornando a casa porteresti a casa ogni mese 3 o 400 euro in meno e che questo denaro in meno significa che lo moltiplichi per tutti i mesi della liquidazione e per tutti gli anni della pensione che cosa puoi fare? Sei libero o sei costretto a firmare questa dichiarazione? A un certo punto la Moratti dice che il capo di gabinetto lei l'ha ereditato la giunta precedente, non ha nessuna colpa? E l'ha riconfermato nell'incarico, per cui se il sindaco intende sgridarci per non aver fatto prima questa segnalazione accetto la sgridata, però questo non è che la giustifichi nell'operazione, noi abbiamo dato un doppio stipendio sostanzialmente a uno che era consigliere regionale e contemporaneamente prendeva lo stipendio di dirigente nel Comune di Milano, così come l'ex sindaco Borghini che ha accumulato tre versioni nella sua, primo era capolista della lista Moratti, non eletto ed è diventato direttore generale, contemporaneamente era consigliere regionale e contemporaneamente direttore generale del Comune. Uno degli argomenti forti della Moratti è che con questa riorganizzazione interna degli uffici avrebbe risparmiato un sacco di soldi? Sì, ha parlato di 160 milioni di Euro, ora chiunque ascolta che cosa pensa? Che sono stati risparmiati sulle spese sul personale? Bene, si pensi che le spese complessive di tutto il personale del Comune di Milano sono di circa 600 milioni di Euro, se fosse vera in questa accezione la dichiarazione del sindaco vorrebbe dire che avrebbe pagato circa il 30% in meno di salario, ovviamente non è così, questo risparmio è un risparmio generale di spese del Comune di Milano che vuol dire per i cittadini molto probabilmente più taglio di servizi che non risparmi reali, perché il sindaco dice che ha risparmiato 160 milioni per effetto della riorganizzazione, ma cosa c'entra nella riorganizzazione con il taglio di spese eventuali che sono state fatte? Non ha certamente risparmiato sul personale, perché ripeto, se fosse vera questa cifra riferita al personale vorrebbe dire che un quarto e forse un terzo del personale non avrebbe ricevuto lo stipendio, cosa che ovviamente non è vera. In attesa di questo dibattito istituzionale si può fare, potremmo avere un dibattito pubblico fra voi? Io ho sempre pensato che la sede istituzionale sia quella giusta, è lì che i cittadini ci chiedono di confrontarci. Se il sindaco però ritiene di snobbare il Consiglio Comunale di Milano, di non farlo, in qualunque momento, intervistato da chiunque, in un confronto vero tra quello che dice il sindaco e quello che ho detto io, ma che per la gran parte sono le cose che ha detto la Corte dei Conti, io sono disponibile a farlo. È chiaro che non funziona il metodo dove non esiste contraddittorio. Quindi invitiamo da qui la Moratti, che sicuramente prima o poi vedrà questo video, a confrontarsi pubblicamente a Milano, magari con moderatore da Red Ronny? Magari, anche se come arbitro io non sono in grado di offrirgli quello che gli ha offerto il sindaco Moratti. Stai insinuando qualcosa? No, sto portando degli elementi, che Red Ronny, una società legata a lui, ha goduto per qualche mese di quella impianto gigantesco che c'è stato in Piazza Duomo, per la verità talvolta anche criticato per la sua invasività, che era il Museo del Rocco, per il quale l'amministrazione comunale ha riconosciuto 420 mila Euro. Quindi questo è un dato di fatto, non sto dicendo ci sono le delibere, poi se i risultati siano stati così entusiasmanti non lo so, poi io non ho seguito il sindaco nei viaggi attorno al mondo per conquistare l'Expo, mentre vedo dai suoi reportage, ma a me va bene anche Red Ronny come intervistatore, non ho assolutamente problemi perché la forza dei fatti e degli elementi è superiore a qualsiasi altra interpretazione.